Sì, è bella questa, l'hai filmata al doppio estronamento, dopo ti dico. La doppio estronata è bellissima. È un modo di giocare da cano, così giocano i pitbull, giocano anche il boom. Ivy invece li prende per spinimento, ti fa correre ma talmente caldo. Ivy mi fa partire un crociato. Io mi sono così finita, per piegare le gambe, non so se te ne vanno a filare. Lei dice, parte che lei ha giocato da cucciola, non aveva trovato cani, ma non aveva giocato, quindi il carattere. Mantengono, vai la porta con la cucciola, come fare la cucciola. Lei voleva giocare, insomma lo diceva giocare, che era mal interpretato, così anche dagli altri cani. Con il sedere, con le culatte, e poi c'era tutto il certo lavoro, la mia lavora. Per esempio, faccio un po' con un, metteva un po' con l'aria. E' corretto che lei veda un po' più chi lo dice, giocare, secondo me, perché anche in pari. E' un po' con 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 un po'. Sì, perché se ne è giusto. Ecco, questa scrollata è un cambiamento omotente, cioè sono stanca. E' un po' con 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 un po'